All'efferenza di Bruce Harper, i Gemini e Harry sono fortissimi, fanno una fase difensiva e offensiva come nessuno e introdurono una nuova tecnica che diventerà il sogno del allenatore di tutto il mondo La gattapulta infernale Io voglio la gattapulta infernale La gattapulta infernale Gomeness Armstrong si fermava, il grande Giappone si allenava, la escalava Meglio dell'originale